si va Dodo come lo costi? no ma si vede Dodo secondo me questo questo è l'ultimo come si è aggiustato il pane? quanto? buonasera si si ciao ciao ragazzi non c'era non mi ricordo maialetti 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 stai spiegando com'è la cultura grazie 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 soprattutto nella parte sinistra perché ci stanno più freddo ci viene e tu l'hai misurato l'hai misurato? si vieni Valeria grazie ciao 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 Maurizio Maurizio chi è lui? si si dai grazie 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 attворiva grazie ecco questa qui è da capitalista per la sole vedi vedi sta lì a riprendere mi lascio comprarla ho lavorato e me la son comprata devi ringraziare Berlusconi? no il mio lavoro devo ringraziare 220 220 devo spostare la macchina che il massimo deve andare a prendere ma cosa dovrebbe essere troppo di pesce? riprende al bastoncora Fabrizio Dodo Dodo Pino vuoi sapere Dodo sei il mago del bracciere e anche quello del cucinino quando rivedrà il filmato direi mi fatturò tutto questa è come ti pianta contento ci manca la scelta di fuori mio do la parola cosa ci manca la fuori mio non so che dica l'antaisla ha telefonato grazie il giorno di natale guardare gli auguri addosso davvero mi sta sbattendo tutta l'ora nella ca... Dodo se mi dici dove è manca Dodo Dodo apri un brindisi anche se siamo a Cagliari non l'hai capito? Dodo Dodo è stato veloce questa volta Dodo allora Dodo a chi lo dedichiamo questo brindisi? no non c'è problema a chi lo dedichiamo questo brindisi? a una persona che in questo momento non c'è non per sua volontà ma per volontà di un animale di un maiale che non ha sentimenti e non può anche dire come questo Dodo a suo a suo quaterno ma se no pari cristallenni ruba me Dodo blac borg che c'è il mio borg 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 ha ha grazie grazie ma io ho un po' di tosse Fatti dare i soldi prima, Dodo, davvero, davvero. Cristiano! Donino! Donino, ma sei frico! Donino, sul terzo, manca il braccio perché l'ho messo quasi alle sei. Sul terzo. Vai dai maialetti, Fabri, trasferisce. Perciò l'acqua fa male e il vino fa cantare. Stanotte dediciamo qualche canzone. Dodo, stanotte devi fare affredd in mercoledì. Mi manca il mantello. Tanto, come tendenze omosessuali, gli assunti. Dopo la sua fria è mia, andando a casa di San Reino. Ma al mezz'anno sei qui, non ti prego. Non ti prego. Non ti prego. Non ti prego. P***a. 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 l'Italia, non lo so il suo futuro sarà solo con lui però dirò che non rappicchietta dirò che non hai come da bambini ho noto che Berlusconi non ti ha fatto il regalino quest'anno hai lo stesso pantaloncino Dodo gliel'ha regalata il bel Dodo non sembra... immagina con gli sci ma anche la mia scorsa era così questo è il modello numero 6 di Guerriero Stellare dotato di armi incredibili Star Trek lo hanno usato anche per fare i film però sai è un ragazzo timido mi ha riuscito di quando eri ora la mano, grazie la mano dai dopo va bene